Sì, 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 sì! Grazie, grazie! Signore, facciamo un intervento adesso. Io vorrei che facesse una cosa, per favore. Potete abbassare le bandiere, se no non vi vedo. Noi facciamo esattamente il contrario di quello che fanno gli altri, che si portano gli sbaglieratori. Mettete giù, Grillo non va in Calabria, lo so, manco le cani, caffi, vimmo tutta a croco in Calabria, non potevo andare. Allora, mettete giù, fatemi vedere. Allora, grazie ragazzi, grazie. Grazie a voi. Va bene, va bene, va bene, fatemi vedere. Allora, allora... Il problema, il problema, il problema, il problema, il problema di tutti a casa, che hanno un solo di casa... Allora, io sono qua per dirvi che il governo Modigliani all'inizio ha fatto un intervento bellissimo. E questo non è un partito dove c'è un leader che parla e voi siete quelli che dovete essere convinti di qualcosa. C'è uno scambio di qualcosa di diverso. E non era neanche quello dell'anno scorso, questo scambio è cambiato. C'è un fluido che ci unisce, che non è mai successo. E girando per tutta l'Italia col camper, ci unisce qua. Ed è qualcosa di più. Prima era la speranza. Siamo andati anche oltre la speranza. C'è una sorta di gioia, c'è una sorta di felicità, che io non conoscevo. Me l'avete tirata fuori. C'è una sorta di un momento di disperazione. Quindi stanno dicendo qualsiasi cosa.